C'è la poca conoscenza di andare per colline o montagne, tutto sembra facile ma invece a volte anche posti come questo possono risultare difficoltosi. Che sia per fare un'escursione nei boschi o magari semplicemente per cercare funghi, sono tante le persone che si avventurano nei boschi, in questo caso dell'Aretino ma di tutta la Toscana e stanno aumentando proprio i soccorsi a persona, lo conferma il soccorso alpino della Toscana. Si sono aumentati soprattutto dopo il covid o durante il covid quando si sono aperti i cancelli perché hanno cominciato a conoscere il proprio territorio. Molti gli errori che commettono i non esperti prima di avventurarsi in un bosco. La causa principale sono le scivolate, questo porta proprio al fatto delle scarpe, le scarpe che devono essere scarponi perché il piede deve stare sicuro e ancora tanti oggi soprattutto sui funghi vanno ancora oggi stivale di gomma e lo stivale di gomma è molto pericoloso soprattutto quando c'è un terreno abbastanza ripido. Una buona abitudine prima di partire da casa controllare le previsioni meteo, se si tratta di anziani avvisare i familiari che ci si allontana da casa, portare con sé degli oggetti che possono servire in caso di smarrimento e poi c'è una app specifica. Questa è una lampada frontale, è piccolissima e questo è un telotermico che ti permette anche se dovessi stare fuori una notte ti protegge il tuo calore e rimane lì dove sta in una tasca. Noi proponiamo sempre e da quest'anno è gratuita, è uscita dal Soccorso Alpino e dal Club Alpino Italiano questa app Georesc che chiaramente funziona con i dati, però se uno quando va fuori a fare un'escursione o a cercare funghi attiva il tracciami, finché ci sono dati segna, poi magari lo perde, lo riprende, però queste centrali nostre H24 possono risalire a queste piccole tracce e uno lascia, per cui sappiamo indiativamente la zona dove può essere e il percorso che ha fatto. Chiaramente ancora oggigiorno ci sono soprattutto le pensione anziane che hanno ancora i cellulari di vecchia generazione e questo è veramente difficile a volte trovarli. Soccorrere qualcuno in una zona soprattutto impervia comporta l'impegno di tante forze e mezzi, per questo bisogna fare attenzione prima di mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri. Qual è stato il soccorso più difficile che si è trovato ad affrontare? Un soccorso sopra Corezzo con un infortunato che abbiamo dovuto barellare con gli altri tecnici presenti ed è stato portato fino in valle dove poi è potuto salire sull'ambulanza. Ecco, ipotizziamo allora lo scenario peggiore. La persona si allontana, non avvisa i familiari dove stava andando, non ha cellulare e non riesce, insomma, un disperso senza nessun tipo di traccia. La persona che si trova in mezzo a un bosco in queste condizioni, sperando che ovviamente i familiari diano l'allarme, che deve fare? Innanzitutto mantenere la calma. Il segreto è mantenere la calma, cercare di essere razionali laddove non ci sia un pericolo sanitario, ovvero che non ci sia un infortunio grave. Quindi conservare anche la batteria del telefono, perché anche questo è importante, perché poi nel panico si tende a usare il telefono per cercare di contattare plurime volte, piuttosto che banalmente cercare di scaricare una cartina. Una volta lanciato l'allarme, che sia in proprio o da parte di un terzo, mantenere attivo il cellulare e conservare la batteria. Questo è fondamentale. Come è fondamentale? Per chi avverte come terzo di aver sentito delle urla in un bosco, mantenersi disponibile, non sparire. Cioè cosa succede? Noi in un bosco sentiamo delle grida di aiuto, telefoniamo al numero unico 112 e poi si tende ad andare via, a non rispondere più. Tanto io ho avvertito, ho fatto il mio. No, ecco, quello è importante dimenticarlo come atteggiamento, cioè mantenere anche noi la calma, anche se non centriamo nulla con chi è in difficoltà, e mantenere attivo il telefono e rispondere laddove arrivi una chiamata, anche se è un numero sconosciuto, non lo si conosce, ma essere presenti e partecipi, ecco, anche se non coinvolti direttamente. Resta è che diavolo non ha.